eccoci ragazzi che si sta dove si va la quinta tappa vai vediamo come sarà che è definita la tappa più difficile della giornata è detta de hospital perché comunque c'erano molti ospedali per curare i pellegrini che percorrevano questa strada e adesso vi saluto e vi auguro buon cammino Grazie a tutti Grazie a tutti.